Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, vi voglio fare una domanda secca e precisa senza fare giri di parole e poi naturalmente vi spiegherò anche il mio punto di vista scriveteli sotto nei commenti quindi che cosa ne pensate la domanda in questione è ma a questo punto, per la fine dell'anno, quando usciranno le nuove console PS5 e Xbox One conviene veramente acquistarle? voi direte perché è normale che chi è costretto, tra virgolette, a portare determinati giochi come il sottoscritto dovrà per forza impegnarsi in un acquisto del genere per provare la nuova generazione ma, uscendo da questo contesto, per quale motivo ho dei dubbi? e ve lo spiego chiaramente ultimamente stanno uscendo dei nuovi giochi hanno annunciato nuovi giochi Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk, il nuovo gioco di Batman che uscirà nel 2021 e hanno già comunicato che saranno naturalmente disponibili sia per PS4 e PS5 sia per Xbox One che Xbox Serie X quindi attuale generazione e nuova generazione il che cosa significa? significa che molto probabilmente anche quando usciranno le nuove console per cui per l'anno nuovo, per il 2022, quando avremo finalmente in mano sia PS5 che Xbox One Serie X molto probabilmente i giochi nuovi che usciranno nel 2022 usciranno anche per PS4 e Xbox One per cui questo mi fa pensare che gli sviluppatori partiranno sempre da un minimo da una base minima da sviluppare un gioco cercando di farlo girare anche su una console passata in quel caso perché quando avremo le nuove console PS4 e Xbox One saranno console passate il mio timore qual è? è che non vorrei che magari i nuovi giochi sviluppati nel 2022 potrebbero essere tipo non una nuova generazione ma come dire come se avessimo una PS4 Pro quindi una console Pro o magari lo sviluppo dei nuovi giochi quelli che riusciranno a sfruttare appieno le nuove console sia PS5 che Xbox One Serie X vuoi vedere che questi giochi li vedremo soltanto nel 2023 quindi già troppo tardi il che poi mi fa pensare che molto probabilmente poi a quel punto nel 2023 usciranno PS5 Pro e anche una nuova Xbox Serie X potenziata ecco perché ho dei dubbi da consumatore ecco da appassionato di videogame mi metto nei vostri panni e penso che naturalmente forse all'uscita non potrebbe tanto convenire acquistare la console tralasciando il fatto che magari in passato le console comprate al preordine a volte davano dei problemi tralasciando questo piccolo particolare però magari dal punto di vista dei giochi forse non potrebbe convenire tanto per il semplice fatto che magari come avete già sentito benissimo se acquistate poi il gioco per 2021 per la console PS4 potrà aggirare anche su PS5 grazie ad un aggiornamento però se mi fai pensare che grazie ad un aggiornamento io potrò utilizzare il gioco per PS4 su PS5 allora vuol dire che non sto sfruttando veramente tanto la nuova console scrivetemi sotto voi che cosa ne pensate se naturalmente la pensate non me tutto questo naturalmente perché ci vuole sempre naturalmente tralasciando il prezzo perché ancora non sappiamo quanto e quale sarà questo prezzo perché è normale che se sarà molto alto la bilancia sicuramente va più verso il non conviene ci vediamo se va al prossimo video Bye